Assai prima di Hunger Games esisteva un vero e proprio caldo anni 80 ambientato in un futuro distopico con Arnold Schwarzenegger che competeva in un reality show in cui la posta in gioco era la vita, in una corsa contro il tempo evitando brutali avversari e trappole esplosive. Curiosi? Ebbene nel catalogo di Netflix ora trovate l'implacabile, film del 1987 diretto da Paul Michael Grazer, il mitico Staski di Staski e Hatch. Nel film una recessione globale ha lasciato l'America e presumibilmente tutto il mondo nella morsa di una dittatura totalitaria in cui i media sono controllati dallo Stato e i cittadini ribelli vengono catturati e sottoposti al lavaggio del cervello. Ben Richards, Arnold Schwarzenegger, è un poliziotto e pilota di elicotteri che viene spedito ai lavori forzati dopo essersi rifiutato di sparare su un gruppo di civili nermi. Dopo un tentativo di fuga fallito, Richards viene selezionato come concorrente per il Running Man, il reality più seguito della tv, in cui alcuni condannati provano a ottenere la libertà sfidando energumeni incaricati di braccarli e ucciderli, mentre il sadico pubblico da casa scommette su chi sarà il prossimo a morire. L'implacabile, che è liberamente tratto dal romanzo L'uomo in fuga di Stephen King, combina un'acuta riflessione sulla spettacolarizzazione della violenza e la manipolazione dei mezzi di comunicazione di massa, anticipando l'idea di fake news e declinandola all'immaginario futuristico in stile fuga da New York. Il tutto, infatti, è costellato di vilani eccentrici da affrontare in un territorio ostile e condito poi con un tocco di satira sociale. Insomma, un piccolo car della fantascienza anni Ottanta assolutamente da recuperare o rivedere su Netflix. Che cosa ne pensate? Fatemi sapere quando avrete visto o rivisto l'implacabile e seguitemi per altri consigli su film da recuperare o da rivedere su Netflix e sulle altre piattaforme in streaming, su questo canale, su www.ilcineocchio.it e su tutti gli altri nostri canali social. Ciao a tutti!